in questo tutorial ho caricato questo video scaricato dalla rete e mi è piaciuto molto intanto che parlo lo vediamo e intanto ho inserito un fotogramma che dovrebbe poi rappresentare il titolo iniziale del video per poi finire con un titolo di coda al centro ho messo il mio video nel tutorial che andrò a presentare vedremo come inserire in questo video prima una traccia musicale poi per tutta la durata del del video vedremo l'inserimento di una voce narrata per poi finire di nuovo con con la stessa musica iniziale perché a volte nasce l'esigenza oltre alla traccia musicale di inserire in un video anche una narrazione storica o perché sia un viaggio vogliamo descriverlo oppure una particolare occasione come fosse un diario tante di quelle cose vediamo appunto se ci riusciamo in questo perché richiede tempo vediamo appunto se ci riusciamo questo video è bellissimo perché a parte poi che questo bulldog è stupendo ne avevo uno uguale uguale perciò mi è piaciuto si chiamava ettore e in pratica qui credo che sia la cesta del del cane e il bimbo si è messo nella cesta del cane questi sono questi cani sono molto pigri il mio non si muoveva mai era soprappeso e quando lo portavo a passeggio si stancava e stendeva le mani e le zambe siccome le aveva le hanno piccole corte si stendono si stendono a terra con la pancia sotto e sembrano uno scendiletto diceva stop quando si stancava e non si alzava più per tornare a casa io dovevo chiamare mio figlio veniva con la carriola e lo mettevamo dentro e lo portavamo a casa passiamo all'inserimento della della nostra traccia iniziamo col mettere la prima traccia musicale andiamo nella timeline e posizioniamoci voglio dire innanzitutto che ci sono svariati metodi per fare le cose come dire per andare a roma ci sono tante strade io io ho adottato questo per intuito adottate anche voi perché mi sono trovata bene poi se uscirà il professore di turno e ci dirà è sbagliato a me non me lo frego proprio allora clicco di destra stop e ho tagliato la traccia musicale in tutta la copre solamente i titoli iniziali mi seleziono la posizione del video vado qui arrivo alla scelta della del suono lo clicco e mi rega sul record per registrare registriamo una voce che andrà a inserirsi nella postazione del video del video in effetti dovrebbe essere la narrazione del video io ho detto tutte altre cose sarà cortina perché ho parlato prima della descrizione del video ma noi immaginiamo che sia lunghissima e poi la faremo terminare con l'altra parte della della canzone stop diciamo sì confermiamo e andiamo a vedere nella timeline che cosa è successo vediamo un poco qui abbiamo la traccia musicale per il percorso del video abbiamo la nostra traccia e cortina perché avrei dovuto parlare ancora tanto tempo e facciamo quest'altro quest'altra riparazione qui clicco di destra e vado qui e tra la traccia ai settaggi della traccia musicale stabilisco che deve terminare con una una sfumatura di quattro secondi eccola vedete che termina gradatamente continuiamo abbiamo sfumata la nostra traccia musicale abbiamo inserito nella postazione del video la narrazione è corta noi immaginiamo che sia lunga e ci poggiamo nella parte finale a questo punto possiamo inserire l'altra l'altra traccia musicale si posizionerà chiaramente da questo lato qui dall'inizio allora clicchiamo con clicchiamo sopra la traccia musicale e ctrl e trasportiamo il nostro video e trasportiamo la nostra traccia poco di pazienza però una volta fatto questo trasporto vi assicuro che il video sarà bellissimo possiamo anche sfumare leggermente abbiamo e poi dobbiamo già dobbiamo provvedere a tagliare la parte che non ci interessa clicchiamo proprio nel punto stabilito e facciamo stop abbiamo terminato controlliamo traccia musicale narrazione che corta immaginiamo che sia lunga e l'altra la traccia musicale sfumata qui sfumata qui e penso che sia tutto vediamoci la tam la tam line ecco qua vogliamo fare una una prova iniziale registriamo una voce che andrà a inserire avete avete sentito è tutto a posto posizioniamoci adesso qui per controllare l'altra traccia musicale eccola lì e questo è tutto nella nella descrizione del video troverete altri dettagli c'è anche la possibilità di registrare la voce con un programmino a parte oppure usare la l'opzione che ci offre pro show 5 credo di aver detto tutto possiamo salutarci arrivederci